Nelson Mandela, una vita per la libertà. Nelson Mandela è stato un leader politico e anti-apartheid sudafricano che ha servito come primo presidente democraticamente eletto del Sudafrica dal 1994 al 1999. È considerato una delle figure più importanti del XX secolo e un simbolo della lotta per la libertà e l'uguaglianza. Mandela è nato il 18 luglio 1918 nel villaggio d'Invezzo, nell'Africa del Sud proveniva da una famiglia di etnia Xhosa e ha ricevuto un'istruzione formale, frequentando la Helltown Comprehensive High School e l'Università di Fort Hill. Nel 1942 si è iscritto alla facoltà di legge dell'Università del Witwatersrand, dove ha incontrato la sua prima moglie, Evelyn Tocco-Mays. Mandela si è unito all'African National Congress, ANC nel 1944 e ha rapidamente assunto un ruolo di leadership nel movimento anti-apartheid. Nel 1952 è stato arrestato per la prima volta per aver violato la legge sul pass, che imponeva ai neri di portare un passaporto interno. Nel 1956 è stato arrestato con altri 156 membri dell'ANC per alto tradimento, ma è stato assolto nel 1961. Nel 1961 Mandela ha fondato un conto Isizue, l'ala militare dell'ANC. Nel 1962 è stato arrestato di nuovo e condannato a 27 anni di carcere. Ha trascorso la maggior parte della sua prigionia nella prigione di Vauben Island, a largo della costa del Sudafrica. Durante la sua prigionia, Mandela è diventato una figura simbolica della lotta anti-apartheid. Nel 1980 è stato condannato a morte, ma la pena è stata commutata in ergastolo nel 1982. Nel 1990, il presidente sudafricano Frederick William de Klerk ha annunciato la sua liberazione. Dopo la sua liberazione, Mandela ha guidato l'ANC nelle negoziazioni con il governo sudafricano per porre fine all'apartheid. Nel 1994, Mandela ha vinto le prime elezioni democratiche del Sudafrica, diventando il primo presidente nero del paese. Come presidente, Mandela ha guidato il Sudafrica verso una transizione pacifica e democratica. Ha promosso la riconciliazione nazionale e ha lavorato per migliorare le condizioni di vita della popolazione nera. Nel 1999 ha lasciato la carica di presidente e ha fondato la Nelson Mandela Foundation, un'organizzazione no-profit che si occupa di promuovere la pace e i diritti umani. Mandela è morto il 5 dicembre 2013 all'età di 95 anni. È stato un leader visionario e un simbolo di speranza per milioni di persone in tutto il mondo. I contributi di Nelson Mandela. Nelson Mandela ha contribuito in modo significativo alla storia del Sudafrica e del mondo. I suoi contributi includono la leadership nella lotta anti-apartheid, la promozione della riconciliazione nazionale, il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione nera, la promozione della pace e dei diritti umani. Mandela è stato un modello di coraggio, determinazione e compassione. La sua vita e il suo lavoro continueranno a ispirare le persone per molti anni a venire. Il lascito di Nelson Mandela. Nelson Mandela è considerato una delle figure più importanti del ventesimo secolo. Il suo lascito è immenso e continua a ispirare le persone in tutto il mondo. Mandela ha dimostrato che la lotta per la libertà e l'uguaglianza è possibile, anche in circostanze difficili. Ha anche dimostrato che la riconciliazione è possibile anche dopo anni di conflitto. Il messaggio di Mandela è semplice ma potente. Tutti siamo uguali e meritiamo di essere trattati con dignità e rispetto. Questo messaggio è più importante che mai nel mondo di oggi, dove l'ineguaglianza e la discriminazione sono ancora diffuse. Nelson Mandela è un'ispirazione per tutti coloro che credono in un mondo migliore. Il suo lavoro continuerà a cambiare il mondo per molti anni a venire.